Musica Cari amici, bentrovati al nostro appuntamento settimanale con le notizie di Burgosatollo. Lunedì scorso si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Burgosatollo con il nuovo Sindaco Marta Inselvini. Vediamo il servizio. Burgosatollo ha un nuovo Sindaco, quello dei Ragazzi. Marta Inselvini è stata eletta nelle scorse settimane grazie ai voti degli allunni della primaria e della secondaria di Burgosatollo. Lunedì scorso il Consiglio Comunale dei Ragazzi si è insediato nel corso della cerimonia alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti della scuola. Cioè questo progetto nasce proprio dal fatto di voler far incontrare i ragazzi con la realtà della vita quotidiana, con gli impegni e i doveri che chi si occupa del bene pubblico deve avere verso il proprio territorio. E questo è uno degli obiettivi principali, questa è la seconda esperienza che questa amministrazione ha voluto. Oggi si insedia il secondo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ancora una volta con piacere una sindaca avrà il ruolo di dirigere questo gruppo di ragazzi delle medie e della quinta della classe primaria. E quindi insieme potranno realizzare delle iniziative, delle attività ed essere anche da stimolo nei confronti degli adulti per migliorare alcune attività sul territorio. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può proporre delle iniziative, dare consigli agli adulti sui problemi che riguardano la gestione della comunità, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola, ma anche lo sport e iniziative culturali. Ad esempio nel programma ho proposto quello di far partecipare la scuola ai giochi della gioventù o anche comunque a quello di creare dei mini corsi sia per gli elementari che per le medie. All'ordine del giorno il giramento del sindaco e dei consiglieri, la votazione del programma di mandato, la nomina del vice sindaco Pietro Medeghini e della giunta, Sara Brocchi, Matilde Pagani e Madi Bergiawi. È sempre stata comunque la mia passione provare a mettermi in gioco e grazie a questo consiglio ho avuto la possibilità di mettermi proprio in gioco davanti a tutti e sono molto felice di essere stata votata come sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Al centro arcobaleno si è parlato della solitudine degli anziani in un convegno a cui hanno partecipato le autorità civili e religiose ed il primario di geriatria della poliambulanza, il dottor Renzo Rozzini. Vediamo. Nell'ambito dei festeggiamenti per il ventesimo anno di fondazione il centro sociale arcobaleno ha organizzato un convegno dal tema la solitudine dell'anziano. A nome dell'amministrazione comunale ha portato il suo saluto il sindaco Giacomo Marniga a cui è seguito l'intervento dell'assessore ai servizi sociali Elisa Chiaff che ha portato la sua riflessione in merito ai luoghi di possibile incontro di solitudine all'interno della nostra comunità. Gli over 78 a Borgo Satollo sono 943 persone, di esse 222 vivono da sole, ovviamente la maggior parte sono ancora donne che hanno più di 78 anni, sono 176 e sono 46 invece gli uomini che hanno più di 78 anni e che vivono da soli. Che cosa c'è per chi è solo o per chi è anziano a Borgo Satollo? Ovviamente dipende dal livello di autonomia e di capacità. Si va da chi sta bene, tra virgolette, quindi è autonomo, può camminare, può uscire, può ancora partecipare alla vita comunitaria e ovviamente il tema della vita comunitaria quotidiana è per noi il centro sociale, quindi la possibilità di partecipare tutti i giorni all'attività del centro sociale arcobaleno che ha aperto tutti i pomeriggi. Abbiamo poi invece per chi comincia a perdere le autonomie diversi servizi, per chi vive a casa ma ha bisogno di un'assistenza più o meno significativa, più o meno importante, abbiamo il servizio di assistenza domiciliare con delle operatrici che escono quotidianamente o una volta a settimana per movimentare l'anziano, fargli il bagno, sistemare casa, insomma ecco questo è un servizio che offre il comune. Per altri che stanno bene, stanno a casa ma non riescono autonomamente ad esempio a farsi da mangiare, offriamo i pasti a domicilio, sempre è un servizio comunale. Questi sono alcuni livelli dell'offerta, abbiamo poi il servizio in convenzione con l'Hauser di Monterone per fare le visite in città, quindi il trasporto, se una persona è anziana, è a casa da sola ma bisogna andare in città a fare una visita, può chiedere all'Hauser di essere trasportata, viene presa da casa alla visita, attesa e riportata a casa. E' un servizio molto importante per il quale ringrazio ovviamente i volontari dell'Hauser di Monterone. Al centro del convegno l'intervento del dottor Enzo Rozzini, primario di geriatria, alla poliambulanza di Brescia e presidente del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia. A conclusione la riflessione di Don Santino Baresi, vicario parocchiale partendo dalla citazione evangelica, quando sarai vecchio tenderai le tue mani. All'incontro hanno partecipato anche diverse realtà che si occupano dei bisogni degli anziani all'interno delle comunità. Se conoscete, se avete vicino, se presupponete che qualche anziano sia in difficoltà, comincia a vivere delle esperienze di solitudine, mi raccomando, stategli vicino, segnalatelo, fatelo emergere, perché il grande tema è di coloro che non, anche magari per vergogna, non si presentano ai servizi. Ecco, questi noi non possiamo conoscerli se non si fanno avanti loro o i loro familiari o qualche segnalazione magari dei vicini di casa che hanno qualche timore. Ovviamente con la delicatezza del caso non facciamo indagini su nessuno, però stare vicino ai nostri cittadini è fondamentale e lo possiamo fare anche grazie agli altri cittadini che si possono attivare, ripeto, in maniera molto delicata e esprimendo vicinanza e solidarietà. Il centro a Cobaleno si conferma così un luogo vivo, che vuole bene alle persone deboli, alla comunità e che negli ultimi mesi sta crescendo, offrendo possibilità sempre più interessanti ai suoi associati e a tutti coloro che hanno bisogno quotidianamente di accoglienza, aiuto e compagnia. Un libro per ricordare Marco Solfrini, cestista che per molti anni ha vissuto a Borgosatollo, scomparso lo scorso anno. In sua memoria anche un'organizzazione di volontariato con tanti progetti. Vediamo il servizio. All'interno della rassegna Ponti di Carta è stato presentato il libro I diari del Solfro, parole e libertà di un grande uomo. Queste pagine sono un vero e proprio resoconto di sette manifestazioni internazionali a cui Marco Solfrini partecipò con la maglia della Nazionale Master dal 2011 al 2016, partendo dai pensieri affidati durante quelle giornate ai post di Facebook. È comunque una testimonianza non solo della vicenda sportiva ma anche di quello umano, perché Marco sapeva scrivere molto bene, tra l'altro aveva collaborato sia con Brescia Oggi sia con il giornale di Brescia. e nei suoi racconti di queste spedizioni sportive in giro per il mondo c'è anche molta vita, c'è molto mondo, sono diversi motivi di interesse. È un libro che inevitabilmente verrà acquistato e letto soprattutto da appassionati di basket, ma che potrebbe risultare interessante anche per chi una partita di basket non l'ha mai vista. Marco ha abitato per molti anni a Borgosatollo, muovendo i primi passi sportivi a livello professionistico nel basket Brescia, dove ha giocato fino al 1981, per poi giocare nella pallacanestro Virtus Roma, per poi arrivare fino a Udine e a Siena concludendo la sua carriera da giocatore in varie squadre direttantistiche bresciane. Ha indossato la casacca dell'Italia, con la quale ha vinto un argento ai giochi di Mosca del 1980. La formazione era guidata da Dino Meneghin e in finale perse contro la Jugoslavia. Il 2 luglio 2009 venne nominato team manager, nella neonata società cestistica Basket Brescia Leonessa. È morto improvvisamente a causa di un malore il 24 marzo 2018, mentre si trovava alla fiera di Parma, commosso sul ricordo da parte del mondo della pallacanestro italiana. Il libro nasce dal desiderio dei familiari e amici più stretti di ricordare Marco non solo come giocatore, ma anche come uomo curioso delle cose della vita, attento osservatore dei suoi simili, attraverso la lente dell'obiettività, libero da qualsiasi pregiudizio. Gli amici e i familiari di Marco hanno anche deciso di istituire un'organizzazione di volontariato sostenuta anche dai proventi della venta del libro. L'associazione ha come obiettivo quello di sostenere diversi progetti a favore dello sport, tra questi l'acquisto e l'installazione di alcuni defibrillatori in luoghi sensibili della città. L'ODV Marco Solfrini che in effetti è nata nel maggio dello scorso anno, quindi due mesi circa dopo la morte di Marco, raccoglie fondi per finanziare progetti nel campo della solidarietà, del sociale. Marco ha sempre fatto volontariato nella sua vita. I primi fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare dei defibrillatori che verranno sistemati in alcune zone del centro di Brescia e anche in alcuni parchi dove la gente va a correre, a fare attività sportiva e dove mancano e con quei fondi anche provvederemo a fare formazione perché evidentemente il defibrillatore deve essere usato da mani compotenti. Non è... basta un corso di poche ore però evidentemente bisogna farlo. Quindi il primo progetto che è anche abbastanza ambizioso visto il costo dei singoli defibrillatori sarà proprio questo, le vie del cuore Marco Solfrini. Ed ora lo spazio dedicato agli appuntamenti della settimana. Sabato 16 marzo, alle 10, un convegno in biblioteca dal titolo Borgosatollo e le donne. Interverranno la professoressa Elena Donati, l'assessore Elisa Chiaff e il consigliere di pari opportunità della provincia di Brescia, Anna Maria Gandolfi. Verrà presentato il bilancio di genere redatto dall'amministrazione comunale. All'interno della rassegna Punti dei Carta, giovedì 21 marzo, alle ore 20.45 in biblioteca, si terrà la presentazione del libro Aspetterò domani scorso, di Massimiliano Valiforti, che dialogherà con Daniela Simone. Domenica 24 marzo, alle ore 17, presso il Teatro Comunale, la compagnia teatrale Il Clan di Pompiano presenta il musical Madagaclan, liberamente ispirato alle avventure di Madagascar. Sabato 30 marzo, la parrocchia propone una testimonianza sulla figura di Chiara Corbello Petrillo, con Daniela e Massimiliano, amici di Chiara. L'incontro sarà alle 20.30 in chiesa parrocchiale. Per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che potete continuare a seguirci su Facebook, Instagram e sul nostro sito www.borgosatolonews.it. Grazie per la vostra attenzione e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.